posso più ragazzi ne posso più perso completamente tutte le energie per potermi sfogare perso completamente tutte le energie mentali fisiche non è più ne posso più ne posso più c'è ogni post partito ormai sta diventando uguale all'altro se neanche più sfogarsi che ti sfoghi più prendi post partita precedente lo aggiungi a questo cambi solo la squadra fai coppia incolla adesso mi farò mi scriverò praticamente un unico testo di post partita faremo sempre questa uguale identico esattamente tutto uguale sempre tutto uguale peggior attacco in assoluto non solo in italia in difesa 14 gol 38 gol subiti ci superano soltanto crotone e benevento in questa grandissima classifica e oggi siamo riusciti a prendere due gol dal peggior napoli che io abbia mai visto con i miei occhi una squadraccia incredibile messa in una situazione veramente disarmante ve lo dico da da simpatizzante del napoli ve lo sto dicendo cioè veramente oggi napoli non ha fatto niente per 80 minuti il napoli non ha fatto niente niente hai avuto te il pallino del gioco e sei riuscito a regalargli due gol l'ennesima volta che regali tu dei gol alla squadra avversaria non ti è bastato contro la santa non ti è bastato non ti è bastato contro il sassuolo non ti è bastato continuiamo così ma come fai a salvarti così ma come fai a salvarti giocando così senza neanche una parvenza di attacco di fase offensiva ma come fai a salvarti così che siano talmente fortunati che se ci cade un telecomando ci rimbalza dritto nel retto ma come fai ma come fai vogliamo parlare del primo gol del napoli è il mass e adesso a napoli sembra maradona è il mass ma che si è scartato è andato dritto per dritto si è spostato a sinistra e ha tirato in cinque su di lui in cinque nessuno che gli va sulla palla nessuno in cinque siamo riusciti a fare una calambola una calambola uno sopra l'altro sembrava quasi quando te stai giocando a fifa e ti all'improvviso col joystick ti finiscono le batterie ti si scaricano e devi star lì a riattaccare il filo intanto il giocatore continuo attacca tira fa gol ma che ha fatto il mass e noi lì fessi fessi possesso palla e anche una parvenza di zona offensiva il napoli che praticamente era lì mentre noi ci passavano la palla il napoli era lì a prendersi un caffè ma lì belli beati girassi la tazzulella dei gavè fate fate pure giocate bimbi giocate che poi appena prendiamo palla a noi tac elmas giocate bimbi giocate che intanto appena tocchiamo la palla a noi tac politano che ovviamente politano tira deviazione da parte nostra gol con busi in campo appena entrato busi 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 me ne posso più busi quanto ti auguro di diventare il nuovo roberto carlos busi quanto te lo auguro veramente che mi prenderai in giro andrai lì e fai te che mi prendevi in giro quanto me lo auguro per te guarda busi quanto me lo auguro per te veramente daversa sta partita non l'ho capito palesemente proprio ha messo in campo i giocatori negli ultimi dieci minuti palesemente per per dare un segnale alla dirigenza ma palese 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 cioè i dennis man mi hai la brunetta sprocati in panchina sei sotto di 1 a 0 stai attaccando solo te ne metti dentro uno no no ne mette 8 8 ne ha messi dentro cambiando completamente la squadra non ha capito più nulla gol 2 a 0 conferenza stampa l'ho letta appena uscita al termine della live su twitch altra live gigantesca l'ho letto cosa ha detto in conferenza stampa ma io faccio i nomi io voglio dei giocatori pronti mi portano questi qui non sempre mi ascoltano ha detto quindi sei lamentato del mercato di dennis man sei lamentato di zirze sei lamentato siamo allo sbando più totale ragazzi siamo allo sbando più totale sbando cioè veramente non ci siamo il problema è che non ci siamo con la testa cioè cornelius 19 partite cornelius non hai fatto un gol cos'era quella ciabattata lì cioè per una volta che hai fatto un movimento decente cos'era quella ciabattata lì il vichingo dove è finito il vichingo dove è finito in vichingo e l'ora cioè fermo lì sul suo trono a bere birra tutto il tempo il vichingo è lì fermo bloccato dove è il vichingo? domani ci sarà live dalle 7 alle 8 per l'ultimo anno di calcio mercato vedremo il parma chi acquisterà ne parleremo insieme in live ma quest'anno ragazzi io vi giuro io sto guardando la classifica io non ho la più pallida idea di quest'anno di per quanto siamo sfigati quest'anno ve l'ho già detto che siamo sfigatissimi oltre che balorni anche sfigati per quanto siamo sfigati quest'anno è incredibile come il destino stia giocando con noi stia giocando con i nostri sentimenti perché la zona salvezza è ancora due punti è ancora due punti la zona salvezza quanto sarà lungo sto campionato vi giuro quanto sarà lungo? troppo troppo lungo sarà troppo lungo queste speranze flebili con una squadra che non ha idee non ha gioco non ha un regista ha una difesa che fa delle cappellate disarmanti ha il peggior attacco che esiste in Europa il nostro secondo miglior marcatore è Hernani e ho detto tutto e ho detto tutto e ho detto tutto come mi è sembrato Dennis Mann per quei minuti che ha giocato troppo poco io me lo aspettavo per almeno l'ultima mezz'ora l'ha messo in campo gli ultimi dieci minuti sotto i due gol si ha toccato tre palloni non ne ha perso neanche uno è già un miglioramento da Versa se lo gode però dopo le dichiarazioni che ha detto non lo so ragazzi non lo so però continuando così la retrocessione è sempre più vicina ho paura della retrocessione ma là no un presidente che ti spende 110 milioni di euro in un'annata non ho paura della retrocessione me la faccio e va bene ciò che mi brucierebbe di più però è che tutti quegli obblighi di riscatto in caso di salvezza andrebbero al fumo quindi il Dennis Mann il Zig Zig il Conti come se fossero prestiti secchi poi dopo e gli altri godono poi Kuluzeschi 2 la vendetta fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate della partita io sono senza parole ormai non ho più nulla da dire grazie di cuore per essere stati così tanto numerosi durante la diretta di Parma Game Pass e grazie mille per essere stati così tanto numerosi su Twitch ciao da Papyrus sempre forza Parma eh Kuluzet cosa dici spero ma ben va ci serviresti te guarda in campo forse faresti qualcosa di meglio grazie a tutti grazie a tutti